Quali sono le tecniche per guarire una malattia? In realtà la malattia non andrebbe guarita, andrebbe capita. Cioè, la malattia è la risposta. Voi dovete capirne la domanda. Nel momento in cui, o meglio, la malattia è la soluzione. Quindi se tu guarisci la soluzione, mi ritorna il problema. Ok? E questo è il concetto della malattia. È fondamentale questo, ricordatevi. La malattia è la soluzione. A quale problema? Esempio. La famiglia si sta disgregando. Ok? Allora, ipotizziamo questo. Vi parlo tutte di cose realmente accadute. Padre con un valore famiglia importante. Fa due figlie. E queste crescono. Mentre crescono si rende conto che lui, per il suo modo che ha, non riesce a tenere legata famiglia, né riesce a parlare. Quindi non riesce a esprimere bene. Non esprimendo si ritrova che le figlie si allontanano. Ognuna va in un'altra nazione, una sta per andar via, eccetera. Ora, quando si rende conto che non c'è più modo per rimettere assieme la famiglia, che succede? Gli viene un cancro. Gli viene un cancro e gli vengono dati due mesi di vita. Ora, questo cancro che cosa comporta? Che la figlia che stava per partire non parte e rimane a casa. Quella che era lontana ritorna. Capite che quello che non era riuscito a fare a parole, o con le sue azioni, l'ha fatto con un'azione importante. Ma una bella malattia. Gli hanno dato, no, scusate, non due, sei mesi di vita. Gli hanno dato sei mesi di vita. Ovviamente cosa fa? Dato di sei mesi di vita, lui ha cercato di organizzare tutto affinché lui se ne potesse andare in pace, senza mettere nei cassini la famiglia. Quindi lasciare, insomma, l'attività, eccetera, eccetera, eccetera. Indominate che cosa è accaduto? Quando la famiglia, grazie a questo tumore, si è ricollegata, si è riunita, sapete che è successo? Sapete dopo quanto tempo è morto? Non dopo sei mesi, dopo dieci anni. Quindi questo dopo sei mesi si era dimenticato del cancro, perché ormai la famiglia era riunita, andava tutto bene. Il cancro non aveva più senso di esistere, il suo obiettivo era passato. Ok? In realtà si era fermato, si era congelato. Quindi è vissuto altri dieci anni invece dei sei mesi detti. Era guarito? Aveva risolto il problema. Aveva ottenuto il problema. Cioè aveva ottenuto la soluzione al problema. Quindi la maggior parte delle malattie sono così. Cioè in genere hanno sempre un beneficio secondario. E tutto ha un beneficio secondario. Ricordatevi la mente, la mente fa sempre la cosa migliore per sé nel momento in cui sta con quello che sa. Quindi le malattie sono sempre la cosa migliore che poteva fare nel momento in cui sa per quello che sapeva. Se avessi saputo comunicare o convincere i figli in un'altra maniera, ben venga. Ansia, diaframma, tristezza, Daniele. Cosa è che ti rende triste? Cos'è che ti rende triste? Tutto ciò che riguarda la parte respiratoria è toccato dalla tristezza. Quindi posso presupporre che tu abbia una vita discretamente triste e che sia stata triste addirittura forse da prima che tu nascessi. Dice che forse tua madre sia vissuta nella tristezza mentre tu stavi in pancia. Potrebbe essere. È tutto. Grazie a tutti.